Ciao, Pioceve, stavo Giulio. Di dove sei? Stati Uniti. Questi sono i miei amici. Vai, senta con noi, va! Vuoi vedere la grotta dei sospiri? Che grotta? Tutto può cambiare in un attimo. Ho re! È buono! Ma tu ti vedi di andare in giro con quattro ragazze che appena conosciuto? Fa che si sentono un sacco di cose brutte in giro. Non partire domani. Giulio! Ha chiamato, spregati! Dobbiamo essere quattro. Dobbiamo sistemare una cosa. Ora è meglio se torni notte. Mi amico con te. Dimmi che sta succedendo. Go, go, go! Dobbiamo essere quattro ragazze che appena conosciuto. Non mi piace? No! No, non mi sono! No, non mi sono!